Acquapanna Poco sodio contro la ritenzione idrica Non ci vanno, credo Eh, vabbè, sono finiti, allora Senti Ehi, no, calma, è perché sei tu che li offri sempre a tutti Una settimana di matrimonio E già hanno finito i monscheri Ma impareranno Eh, se impareranno Monscheri, troppo buoni per restare senza Basta un gesto per stare in forma tutto il giorno Indossando Attiva Omsa Impedisco alla stanchezza di arrivare alle mie gambe Attiva Omsa, un massaggio lungo un giorno Christine ha un convegno d'amore con Jean Paul Ma Jean Paul l'ha già dimenticata per Melinda Tutti pazzi per Melinda Ordiniamo qualcosa al bar Jean-Pierre 3600 Sambitè Ehi là, sveglia Questo è un super giorno Cereal X Il vostro magico amico Sono sui in piedi Facciamo colazione Anzi, una festa So io quello che ci vuole Le mie stelline di cereali al cioccolato Da tuffare nel latte Golose È la magia di Cereal X Fantastici A domani Da Mulino Bianco Un nuovo Cereal X Una festa a colazione Opel Corsa costa solo 15 milioni 500 mila lire Non una lira di più Opel Corsa Meno di un secondo per amarla Più di 800 chilometri con un pieno Billy Billy, vieni giù, dai Ti regalo Una ciotola Ming Gomitoli gratis per un anno Sabbietta delle Seychelles Un abbonamento a Gatta Moderna Micho Camping Nessun gatto al mondo resiste a Micho Camping Il nuovo regalo di Friskies Il pasto nutriente bilanciato Micho Camping Il regalo dei gatti pieni di vita Allora, che facciamo? Che facciamo? Scommettiamo che Ah sì? Ah, una buona idea E quando? Da giovedì 11 novembre Sempre su Raiuto? Sì Hai fatto bene a dirmelo, sai? E come mai tutto questo buio? Perché non vogliamo farti scoprire il teatro delle vittorie Ah, ma come mai l'hanno detto a te e non l'hanno detto a me? E chi ha deciso? L'ho deciso io Cominciamo bene, cominciamo Sì, caro Frizzi Che sorriso incantevole Sì, 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 che sorriso incantevole